Il campus Wave è la web radio dell'Università di Genova che trasmette dal campus universitario di Savona. È stata creata nel 2010 da Nadia De Nurchis e Edoardo Bellanti in merito a un progetto di tesi di laurea ed è il canale ufficiale del laboratorio di scienze e della comunicazione al campus di Savona e adesso anche dell'Ateneo Genovese. Nel corso di questi due anni di attività abbiamo già partecipato a diverse manifestazioni, diversi eventi importanti come l'Euroflora, come il Salone di Orientamenti dell'Università di Genova, la zona Fiera, il TecnoAqui di Acquiterme e prossimamente saremo anche all'Expo di Savona. Avremo degli inviati al Festival di Sanremo e realizzeremo durante la settimana un programma in diretta. quindi diciamo che siamo impegnati su più fronti per coinvolgere sia tutti quelli che fanno parte dell'Ateneo Genovese e comunque anche tutti coloro che fanno parte della vita del campus. Siamo in rete all'indirizzo www.campuswave.it e poi ogni lunedì mattina partecipiamo al programma delle radio universitarie istituito da M2O a ottobre che si chiama M2U, M2O University, dove una volta a settimana, nel nostro caso lunedì, ogni web radio ha la possibilità di realizzare due contributi dove racconta la vita del territorio, dell'università e tenere informato a livello nazionale di FM e web quelli che sono i nostri eventi principali che ci riguardano proprio da vicino. Grazie. Grazie. Grazie.